Siamo al cinquantesimo congresso della Società Italiana di Neurologia e con il professor Pozzilli parliamo di sclerosi multipla secondariamente progressiva. La secondaria progressiva è sicuramente l'hot topic di questo congresso della sclerosi multipla perché fondamentalmente stanno arrivando delle nuove terapie proprio per questa forma e noi purtroppo fino ad oggi non avevamo cure se non nelle forme più iniziali. È chiaro che è difficile da un punto di vista clinico poter riconoscere quando un paziente arriva alla forma secondaria progressiva. Io dopo vent'anni di mestiere, forse anche di più che vedo pazienti con sclerosi multipla, devo dire che se non vedo anche la risonanza magnetica e lo vedo e sento solo la storia clinica, mi è difficile poter dire se un paziente è ancora in fase remittente o in fase progressiva. Sicuramente le immagini di risonanza magnetica abbiamo sentito anche oggi sono molto importanti perché ci fanno vedere delle lesioni caratteristiche di questa forma, cioè queste lesioni che tendono a espandersi lievemente e sono quelle che gli americani chiamano le slow progressive lesions e queste lesioni sono tipiche di questa forma più avanzata rispetto alla forma iniziale di malattia, anche se abbiamo sentito che possono essere presenti fin dall'inizio, sicuramente in una misura minore. Quindi è il riconoscimento della forma progressiva fin quando probabilmente ancora non lo è che dobbiamo utilizzare dei farmaci ad hoc e oggi abbiamo dei farmaci e l'abbiamo sentito, un farmaco in modo particolare, il Siponibod che ha dimostrato di essere particolarmente efficace in questa forma di sclerosi multipla di tipo progressivo che è una forma di sclerosi multipla che ad oggi nessun altro trattamento aveva mostrato un'efficacia significativa. Uno degli obiettivi della terapia in questo caso è quello di cercare di ritardare la progressione della disabilità. Che cosa abbiamo adesso per fare questo? Abbiamo sicuramente, come dicevo, dei farmaci che sono all'orizzonte e che servono a ritardare questa progressione della disabilità. Ma io vorrei aggiungere che oggi sono evidenze anche dello stile di vita. Quindi sappiamo che per ritardare la disabilità è importante incrementare la neuroplasticità del sistema nervoso. E questo si ottiene con un stile di vita corretto e soprattutto aumentando quello che è le riserve sia di tipo cognitivo che di tipo motorio e cioè l'esercizio fisico. Oggi sempre più lavori ci dicono che l'esercizio fisico ci aiuta a ritardare la disabilità in questi pazienti.